di arrivare al risultato risarcitorio anche laddove, malgrado le difficoltà che il medico incontra nel fornire le prove liberatorie di cui ho onerato, anche laddove, dicevo, il giudizio abbia dato indicazioni favorevoli al medico, cioè la consulenza medico-legale, perché in genere su quello poi finalmente si va a parare per discriminare fra rispetto e mancato rispetto delle legge Sartis, o per individuare quell'elemento causalmente estraneo, sopravvenuto, non imputabile, che interrompe il nesso, dico, quando anche la consulenza abbia avuto un esito positivo, dicendo che il paziente in definitiva è stato colpito da un evento sfortunato a cui il medico non poteva mettere alcun rimedio e che rientrava nelle complicanze previste e prevedibili, ma non prevenibili, in quel caso, dicevo, la deduzione del difetto di consenso salva il risultato per il paziente. Io uso dei termini un pochino terra-terra, me lo perdonerete, ma questa è la sostanza delle cose. Perché lo salva, dicevo, purché, ma credo che ormai non accada più il contrario, purché l'avvocato abbia avuto l'avvedutezza di fare quello che ormai con clausola di stile si legge in tutti gli atti di citazione, cioè dopo aver allegato l'errore professionale, direi che comunque non mi avevi informato abbastanza e il consenso non è buono. Dico, l'avvedutezza di fare questo perché, almeno su questo c'è sicurezza, la domanda fondata sull'errore professionale non contiene quella da difetto di informazione, cioè quella va formulata espressamente. Nella mia esperienza recente, non mi capita più di vedere che qualcuno se lo scordi, ma insomma, così è. Dicevo, perché questa è la, chiamiamola scappatoia, la norma di chiusura, il modo per raggiungere il risultato anche quando non c'è la colpa, anche quando è accertato che la condotta del sanitario è corretta. Perché la giurisprudenza, pur affermando, cosa del resto pacifica, che l'informazione e il consenso, o meglio il consenso difettoso per difetto di informazione, viola non il diritto alla salute, ma il diritto all'autodeterminazione e alla libertà del paziente, malgrado ciò, ciò che viene risarcito al di fuori delle ipotesi residuali, dove la violazione del diritto al consenso informato non abbia avuto conseguenze pregiudizievoli sulla salute, e quindi venga dedotto una richiesta risarcitoria puramente per la violazione del diritto all'autodeterminazione, e quindi, dicevo, fuori da questi casi, che sono veramente residuali, alla base c'è comunque un risultato meno felice di quello sperato e voluto. E questo risultato, o meglio, questo aggravamento, questo mancato raggiungimento di risultato, è ciò che la giurisprudenza comunque risarcisce. Cioè a dire, benché l'inadempimento del sanitario incida sul consenso e dunque sul diritto all'autodeterminazione, si risarciscono anche o soltanto le conseguenze pregiudizievoli di un atto medico lecito e corretto. Il principio, ribadito anche di recente dalla Cassazione, è che l'illiceità della prestazione per mancanza di un valido consenso si riflette in qualche misura sull'intera prestazione e dunque quella lesione del diritto alla salute diventa a sua volta conseguenza di un illecito. A me pare che questa sia una poria importante e un argomento su cui ancora si possa un pochino lavorare, nel senso che si può tentare ancora di proporre una revisione di questi concetti alla Corte di Cassazione e ai giudici di merito che la seguono quotidianamente, ma da questo anche deriverei delle altre considerazioni. Finisco tuttavia due parole sempre su questi argomenti più generali in tema di consenso. Una sentenza recente, per esempio, ha ritenuto che gli obblighi di informazione siano altrettanto rigorosi e da rispettare a prescindere dalla condizione del paziente. Cioè a dire, se anche il destinatario della prestazione medica è un medico, magari pure specialista del settore, nel caso forse non lo era, ma era un medico di alta fascia, se non si prova di avergli fornito tutte le informazioni che il Quivis de Popolo ha diritto di ricevere, l'obbligo risarcitorio è tal quale a quello che il medico avrebbe nei confronti appunto dello sprovveduto del qualsiasi che si fosse presentato per le stesse ragioni alla sua attenzione. Ha noto ancora che, tornando un attimo invece a quello che dicevo prima, cioè di risarcibilità in ragione dell'illiceità, delle conseguenze sulla salute, che non dipendono da colpa, che questo parrebbe anche in contrasto con principi che invece hanno trovato recente, relativamente recente, ma costante accoglimenti in ambito penale. Brevissimamente, in tema di difetto di consenso, la cassazione penale in anni remoti, ma non remotissimi, sul presupposto che l'atto medico, l'intervento chirurgico, meglio, fosse un atto astrettamente illecito, legittimato dal consenso, portarono ad una condanna definitiva per un disgraziato chirurgo, di nome, di cognome, Massimo, ha otto anni di reclusione per omicidio preterintenzionale, anni che questo non ha scontato in quanto scappò in Brasile, dove è morto, poverino. Dicevo, questa giurisprudenza negli ultimi anni è stata rovesciata. L'atto medico è lecito di per sé, non è reso lecito dal consenso, e anche in caso di difetto di informazione, quindi di consenso invalido, non diventa illecito, per cui oggi in sede penale il dottor Massimo sarebbe assolto. Pare invece che per la Cassazione Civile quello stesso atto venga legittimato soltanto da un consenso valido, perché se il principio è in difetto di consenso è un illecito. Questi sono argomenti che io traggo dalla giurisprudenza e porto alla vostra attenzione. Qui arriviamo a parlare invece di quanto ha accennato molto più brillantemente di quanto saprò fare io, ma cercherò comunque di dare qualche indicazione pratica, l'amico Alberto Bregoli, cioè questa sorta di creazione di un surrettizio welfare a mezzo della responsabilità civile, che è una sensazione, più di una sensazione per molti credo che operano nel settore, sensazione che deriva non solo dalle giustissime considerazioni che faceva il professor Bregoli o da quelle un po' disordinate che ho fatto io sinora, ma più in generale dall'esame dell'evoluzione della giurisprudenza in materia di responsabilità civile ad ampio spettro, voglio dire, si sono negli ultimi 20-30 anni, si è ampliato enormemente l'ambito di applicazione di norme di responsabilità oggettiva o aggravata o presunta, riducendo l'articolo 2043 a una norma residuale, a un paradigma quasi astratto, ma non c'è sostanzialmente vicenda risarcitoria extracontrattuale che non trovi oggi soluzione con la responsabilità da cose in custodia piuttosto che la rovina di edificio o altre norme di questo genere. l'allargamento progressivo dei soggetti a favore dei quali il risarcimento viene erogato in caso per esempio di morte, con un unico precedente recente un po' in controtendenza ma che qui non esaminiamo, la configurazione di poste risarcitorie più o meno autonome, più o meno ritagliate o riportate nell'ambito di un generale concetto di danno non patrimoniale, dico in materia non patrimoniale, però l'allargamento sia delle, chiamiamole voci di danno risarcibile, sia l'aumento banalmente monetario dei risarcimenti corrisposti, tutto questo unitamente a queste considerazioni che abbiamo fatto per esempio in materia di responsabilità sanitaria che portano sostanzialmente alla quasi impossibilità di vedere assolto il medico e prima ancora di questo la struttura sanitaria a cui questi fa capo da domande risarcitorie anche nell'ipotesi in cui la condotta sia stata corretta, a prescindere dal fatto che per esempio la causa ignota finisce per essergli imputabile, l'impossibilità di ricostruire le ragioni di un evento che può essere anche stato sfortunato comportano la condanna, tutto questo voglio dire si inserisce in un trend che è reso anche palese da qualche considerazione che si legge in sentenze anche importanti, voglio dire la sentenza di cui ci ha parlato Alberto è secondo me emblematica di tutto questo, cioè la tendenza dell'ordinamento, l'orientamento tendenziale è quello che a fronte di un danno, di un evento pregiudizievole deve essere erogato un risarcimento da qualcuno e per dirla veramente in parole povere senza tanto stare a guardare se c'è una colpa, cioè si prescinde dalla imputabilità dell'evento basta una sorta di relazione causale poco più che occasionale, il fatto è accaduto dentro un ospedale non ho avuto i risultati che speravo, mi devono risarcire, una sfortuna d'altro genere mi ha colpito qualcuno deve pagare, ripeto sto veramente banalizzando il concetto però oggettivamente questo è il sistema della responsabilità civile è diventato un po' il parafulmine anche della sfortuna, il tutto poi come dire col retropensiero tanto alla fin dei conti c'è un'assicurazione che paga sicché si pensa che in questo modo non si trasferisca la sfortuna del singolo sulle spalle della collettività ma sulle spalle o sul portafogli di un altro singolo, di un soggetto economico che è evidentemente non vero perché ci sono mille ragioni per cui questo in realtà non avviene o avviene come primo passaggio cioè quell'assicuratore certo pagherà ma quell'assicurazione non essendo deputata a regalare danaro e a fare perdite come minimo alzerà i premi ma non solo ci sono categorie professionali che faticano o non riescono nell'ambito medico la cosa è ancora più evidente a trovare chi se le pigli come assicurati o trovano dove assicurarsi a prezzi inaffrontabili si è letto di recente ho sentito con le mie orecchie ad un convegno ma sono fatti documentati e documentabili c'è una fuga dalla professione medica malgrado comunque sia all'università riescano a cedere un numero più ridotto di quelli che col numero chiuso comunque sia qualcuno rimane fuori ma in fasi successive ci sono settori della medicina che già oggi non trovano più chi si voglia far carico delle responsabilità anche economiche connesse che so io alla professione di anestesista piuttosto che di cardiochirurgo dicevo un convegno recente ho sentito un noto chirurgo modenese dire che mi pare al San Raffaele un concorso per 18 posti da specializzato in cardiochirurgia hanno concorso in 14 e se ne sono presi 8 per i meno peggio ma sono rimasti scoperti dei posti e la ragione primaria è il timore delle azioni giudiziali la difficoltà o l'impossibilità di far fronte ai costi di una polizza assicurativa le strutture pubbliche anche locali spendono cifre non faccio numeri perché li so in ragione del mio ministero professionale ma parliamo di milioni di euro di polizza con franchigie molto elevate in ragione sempre della mia professione mi sono interessato per un medico a vedere un po' se gli trovo una polizza visto che gli hanno disdetto la sua con alle spalle un paio di piccoli sinistri la proposta che è arrivata è 40.000 euro di premio l'anno con 50.000 euro di franchigia vuol dire mi assicuro per rispettare l'incombente obbligo di assicurazione e per pagare i sinistri di tasca tutti perché insomma questo opera in un settore dove se gli va male è ben difficile che arrivi alla franchigia a fronte di tutto questo a fronte di tutto questo il legislatore un po' si è preoccupato di tentare di intervenire come va detto ha già fatto con grande scandalo anche della professione forense scandalo che si sta ripetendo in questi giorni appunto per il settore medico dicevo come si è fatto in qualche misura progressivamente per il settore della responsabilità civile automobilistica dell'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli dove in definitiva si è tentato e si sta tentando di sostituire un sistema in qualche misura indennitario a quello risarcitorio cioè di contenere delimitare i costi e mi si permette in contrasto con quello che pensano molti nostri colleghi e quello che l'OUA oggi ha detto e vi dirò tra poco non per compiacere i poteri forti o per il bene delle compagnie d'assicurazione ma per cercare di riequilibrare quel problema socio economico che si diceva prima cioè voglio dire quando il fenomeno ha dimensioni così importanti finisce per pesare in modo gravoso sulla collettività i molti danari che il policlinico, l'azienda USL o l'ospedale di Sassuolo spendono per assicurarsi non è che li paga il signor policlinico li paghiamo noi perché il policlinico campa con i soldi delle nostre tasse trasferiti dalla regione su questo potremmo fare una disservazione un po' più ampia perché di questo me ne sto occupando però voglio dire il problema l'aumento del costo dei sinistri stradali lo paghiamo noi perché a compagna d'assicurazione gli interessa fino a un certo punto pagarlo 10 o pagarlo 15 gli interessa forse sì saperlo prima quanto costerà però una volta che lo sa regola i premi non solo il saperlo prima quel sistema introdotto dal codice delle assicurazioni di cui faccio un accenno perché è di attualità in relazione alla responsabilità sanitaria ha anche un effetto collaterale non trascurabile certo non vantaggiosissimo per la professione forense ma è quello di ridurre il contenzioso cioè se sulla responsabilità non stiamo a discutere se la percentuale di invalidità bene o male è determinata ed ora lo è da dei parametri normativi più o meno condivisibili ma lasciamola lì se il risarcimento sappiamo quel che sarà perché dobbiamo finire in tribunale a litigare mi si dirà ma perché anche dobbiamo andare dall'avvocato purtroppo così sarà io non ne subirò in via diretta ma in diretta perché io sono quello che resiste alle domande di quegli avvocati lì che gli chiedono le assicurazioni però è chiaro che al legislatore questo risvolto non sfugge sono molte le norme come dire più o meno apprezzate ma con una finalità diretta o indiretta anche di deflazione ma in qualche modo anche il problema del disastro della giustizia bisogna affrontarle e risolverlo dicevo il legislatore così come se ne è accorto ovviamente per quel che riguarda l'importante fenomeno della circolazione stradale si è accorto certo aiutato dallo strepito di qualche lobbista perché su questo non ve dubbio la classe medica legittimamente ha fatto sentire la sua voce su questi problemi così come la sanità pubblica dicevo si è attivato per cercare di come dire alleggerire la posizione di medici e strutture sanitarie con il famoso decreto sanità o decreto balduzzi convertito in legge di recente che affronta questi problemi sotto tre profili principali cioè sotto il profilo della responsabilità penale e civile sotto quello della misura dei risarcimenti e sotto quello dell'assicurazione ora il profilo di responsabilità che pareva essere quello come dire qualificante della norma mi sembra che sia stato risolto poco e male c'è un curioso riferimento all'articolo 2043 che parrebbe ricondurre soltanto quelle ipotesi di responsabilità del medico pubblico da contatto sociale all'ambito extra-contrattuale ante contatto sociale fermo restando i principi della responsabilità da inadempimento contrattuale per la struttura e per tutte quelle situazioni in cui un vero contratto sussiste il medico da cui vado a pagamento la prestazione in libera professione intramuraria è quel che sia quindi sull'argomento è stata pubblicata con grande solerzia e prontezza che è propria del resto dell'estensore che molto si esprime in pubblico anche dal tribunale di Varese estensore del dottor Buffone una sentenza penso nota molti bravo magistrato che si è occupato tanto per esempio anche di altre questioni che affronta per il vero in un puro e semplice obiter questa riaffacciarsi dell'articolo 2043 nell'ambito della sanità medica che afferma sostanzialmente che d'ora in avanti vigente questa norma l'azione verso il medico adito tramite i canali del servizio sanitario nazionale va riportata nei canoni della responsabilità extracontrattuale quindi con la prescrizione equinquennale e con tutti gli oneri probatori a carico del danneggiato quindi evento danno colpa nesso causale quel che segue cosa ripeto di un interesse marginale perché basta prendersela con la struttura e si rimane ai parametri invece ai criteri che ho illustrato malamente prima risarcimento il decreto in questione ci rinvia ai parametri alle tabelle del codice delle assicurazioni che come noto fino ad oggi si limitano a regolare i risarcimento per i danni fra l'uno e il 9% ma che in de jure condendo se così vogliamo dire preannunciano ormai da molti anni tabelle destinate a regolare i casi di invalidità più gravi cioè dal 10 al 100 non i casi di morte quindi ma solo i casi di invalidità tabelle che sono alla firma del presidente della repubblica ieri ieri l'altro il decreto presidenziale è stato portato alla firma e dicevo oggi non so se poi me la sono stampata no ma mi ricordo cosa c'era scritto il sito internet altalex riportava i commenti di un paio di associazioni di vittime della strada e dell'Oua con un invito accorato al presidente napolitano a non firmare questa norma discriminatoria liberticida perché calcoli fatti e su questo non ho dubito non dubito che siano si tratti di calcoli corretti quello che oggi si paga poniamo 550 mila euro domani si pagherà 250 mila o 220 mila parliamo però di danni non patrimoniali e del tentativo di ridurre l'impatto sociale di un fenomeno che ha una portata rilevantissima rilevantissima abbiamo qui in sala nascosto un funzionario del policlinico ci potrebbe illustrare quanto sia grave questa vicenda ma voglio dire parliamo veramente di una crescita esponenziale delle questioni di responsabilità medica e di come dicevo una possibilità di cavarsela per medici e strutture in ambito civile ormai ristrettissima ristrettissima con ripeto dei costi che non si limitano a quelli dei risarcimenti ma dei costi per formazione di personale per gestione dei rischi e tutta una serie di robe che sono veramente rilevanti e in più dicevo con ricadute ulteriori che sono quelle della cosiddetta medicina difensiva del fatto che non si trova chi ha voglia di fare certi mestieri o che a fronte di determinate situazioni oggi anche la struttura pubblica ti dice ma io questo intervento non glielo faccio lei caro signore anziano che diavolo vuole che le metta le mani addosso che rischio più io di lei vada quindi io mi rendo conto che l'OUA con argomenti anche seri si lamenti di tutto questo anche se temo che il sottotesto anche qui sia altro insomma perché gli avvocati si lamentano molto spiace dirlo e forse anche cosa legittima quando vengono toccati nel portafogli e queste norme vogliono anche dire meno lavoro anche per me con tutto questo io rimango convinto che qualcosa si debba fare rimango anche convinto che una qualche soluzione gli avvocati e la giurisprudenza la troveranno io senza averci pensato granché nel tragitto dallo studio a qui un'ideuzza l'ho avuta siccome il danno morale che sembrava morto dopo le sentenze del 2008 sembra invece ampiamente risorto le nuove tabelle del tribunale di Milano lo rimettono in gioco ma sentenze della corte di Cassazione anche di poco successive alle sentenze di San Martino ma ancor più sentenze più recenti pur rispettando di forma il dictum di quelle sentenze quindi dicendo il danno non patrimoniale uno e uno solo però l'integrale risarcimento e via dicendo visto che queste tabelle bene o male parlano di danno biologico altre categorie descrittive del danno non patrimoniale non sono regolamentate quel che è uscito dalla porta forse rientrerà dalla finestra detto questo però questa è la situazione scusa l'idea di questa no quella che ti è venuta no questa il danno morale una scorciatore un altro modo insomma è un po' racconto un episodietto brevissimo il 5 dicembre del 2008 io Alberto Bregoli e Claudio Previdi con le sentenze di San Martino ancora fresche di inchiostro andammo a sentire il primo convegnetto sull'argomento c'era Ponzanelli c'era Busnelli c'era Comandè e a sorpresa perché questi non erano previsti alcuni magistrati tra cui il dottor Spera di Milano che è come dire il coautore il custode delle tabelle è l'addetto dell'osservatorio alla revisione periodica il quale ci disse se quelle sentenze vogliono dire che il danno morale non si paga più siccome a quelli che vengono qua noi di meno da domani non è che gliene voglia andare la maniera la troviamo cambiamo il valore del punto ora questo questo non si potrà più fare se il punto è vincolato il valore del punto è vincolato qua ma insomma la scappatoia si troverà questo posso fare una piccolissima osservazione la cosa che ha sottito che sia intervenuto questo decreto presidenziale allo meglio che sia la firma che la sede della Repubblica proprio nel momento in cui la Cassazione conferma che le nuove tabelle del Tribunale di Milano sono le più ridone a costruire il giusto esercimento per che sia le vittime della strada che quelle della sanità e stranamente che siano poste alla firma da un governo che ormai è governo e da un Presidente della Repubblica che non può ovviamente fare degli atti di straordinaria di amministrazione nel semestre io non sono un costituzionalista e sono anche un po' ignorante in diritto non so se la firma di un DPR è straordinaria o ordinaria Alberto che è bravo forse lo sa se c'è qualcuno qui che lo sa per certo ce lo dica no d'accordo io non vado su questione risparmio per le compagnie di assicurazione di circa 14 miliardi all'anno per l'inventamento dei sì io non voglio difendere le compagnie di assicurazioni chiedo scusa però la situazione nelle segrete stanze delle compagnie di assicurazioni con riferimento alla responsabilità medica è quella a me è capitato di partecipare a qualche è quella che si aspettano è un provvedimento che le obbligherà ad assicurare i medici nonostante loro vogliono uscire dal settore cioè io non voglio difendere ecco perché io ho partecipato a qualche opinione cioè questi signori e io sono non voglio difendere nelle banche nelle assicurazioni però si trovano in delle difficoltà poi le loro sono difficoltà di bilancio le difficoltà dei pazienti sono difficoltà molto più importanti e non voglio nemmeno metterle sullo stesso piano però io ho assistito a delle riunioni interne delle compagnie che diciamo sì noi dal settore sanitario usciamo ma tanto vedrete che ci ributtano dentro con un provvedimento di legge con attività di lobby vedrete che questo che questo con questo provvedimento di legge cioè con questo provvedimento di legge o meglio con i regolamenti attuativi di questo provvedimento perché hai fatto bene a dire questo perché mi stavo dimenticando l'ultima cosa che dovevo dire come spesso mi capita perché ormai sono un po' un po' svanito insomma cioè che avevo detto appunto responsabilità risarcimento e assicurazione la il commento che io ho letto perché insomma quel cosina devo leggere perché io di mio non ci arrivo l'ho trovato sulla nuova sezione di danno e responsabilità gennaio 2013 che si chiama osservatorio di diritto e pratica dell'assicurazione ed è in quella sezione della rivista che si tratta l'argomento di questo decreto sanità di quelle cose che io vi ho accennato e si parla ovviamente anche della nuova disciplina dell'obbligo assicurativo la finalità ulteriore di questa norma è proprio quella di consentire di creare le condizioni perché i medici trovino perché certe categorie di medici trovino che si li piglia e perché i medici in generale trovino chi se li assicura ad un prezzo che possono affrontare che se alla situazione che ho descritto io aggiungiamo quella che nella sanità pubblica i medici prossimi ai 40 anni sono nella maggior parte dei casi dei precari o inquadrati con delle situazioni libero professionali che è a dire la stessa cosa i medici e non solo i medici quindi con redditi certamente non entusiasmanti con garanzie non enormi con una normativa che sposta gli obblighi assicurativi più su di loro che sulle strutture questi qua a fronte di certe richieste di premio devono andare a fare gli autisti di tram se se li pigliano perché come medici non campano non hanno i soldi da pagare a questo bisognerà mettere un qualche rimedio e il rimedio bene o male è quello di non dico un obbligo a contrarre stile RC auto o un'azione diretta stile RC auto ma qualcosa che ci vada vicino cioè lasciarlo alla contrattazione fra associazioni sindacali o di categoria e assicurazioni è tempo perso perché come diceva l'avvocato Guidotti che parlava di assicurazioni ma io sono anche in grado di dire una nota compagnia con sede a Trieste un leone modi simbolo è scappata lasciando di dietro un polverone dal settore della sanità ha credo smantellato o sta smantellando pagando anche con una certa generosità alcuni sinistri in piedi l'ispettorato sinistri apposta che aveva per il settore sanitario perché di quelle polizze lì non ne vuole più l'Unipol per non fare nomi mi ha detto o anestesisti e ginecologi noi non li vogliamo neanche vedere passare davanti alla porta i ginecologi ospedalieri che fanno nascere i bambini si assicurano perché c'è un'associazione che gli trova una polizza con un broker e finché non hanno sinistri se li tengono ma è gente che si vede arrivare delle cause 2 milioni e mezzo di euro se qualcosa va storto e quindi le compagnie non li vogliono questo è quanto il decreto Balduzzi si propone non ho ben capito come ma diciamo che forse ci aiuteranno a capire i regolamenti di sanare un po' questa complessa situazione situazione che si va di bene ci troviamo fra un po' a dover affrontare anche noi perché benché stralciati dalla legge generale dalla norma generale sull'ordinamento delle professioni in genere l'obbligo di assicurazione della responsabilità civile ce l'abbiamo pure noi al momento stiamo messi un po' meglio dei medici perché la sinistrosità è inferiore ma in crescita marcata ed è solo questione di tempo come dice giustamente non solo forse se verranno costretti a praticare prezzi non dico politici ma umani ai medici li recupereranno dai premi nostri beh però voglio dire li devono spalmare da qualche parte non è che regalano a nessuno le compagnie di assicurazione aggiungo una cosa in contrasto col consiglio dell'ordine qui degnamente rappresentato ancora l'obbligo non è in vigore io il moduletto sull'assicurazione nrc e infortuni non l'ho compilato e non lo restituisco quello che avete mandato lo dice il cnf dice qua fra le domande più frequenti occorre stipulare sin da subito la polizia assicurativa per la responsabilità professionale e per infortuni no sino a quando sarà emanato il regolamento ministeriale consiglio nazionale forense questo è una comunicazione di servizi poi avrei da dire ma è una norma di legge sulla polizia di infortuni dei dipendenti ma questo ci facciamo un altro convegno se non anche perché qua abbiamo sfinito i poveretti che ci hanno avuto la pazienza ad ascoltarci grazie